Preservare ed onorare la memoria di un eroe locale e ricordare il suo sacrificio. A Caira, frazione di Cassino, è stato reso omaggio al concittadino carabiniere Marino Fardelli, vittima, 60 anni fa, insieme ad altri commilitoni, di un attentato mafioso a Cianculli, in provincia di Palermo. Un momento di commozione e riflessione organizzato dall'Associazione Cassino Città per la Pace. In occasione del sestantesimo della ricorrenza del carabiniere Marino Fardelli, che perse la vita a Cianculli, in località di Palermo, abbiamo commemorato non solo lui come vittima di mafia, ma tutte le vittime di mafia che purtroppo vengono poco spesso ricordate. L'iniziativa ha avuto grande successo con la partecipazione di tante autorità nazionali, anche a nome del governo, come lo sottosegretario Vandaferro, e questo ci fa enormemente piacere e ripaga di tanti sacrifici, soprattutto la nostra famiglia che per tanto tempo ha voluto ricordare il sacrificio del carabiniere Marino Fardelli. 60 anni di storia, di una storia che ha visto ovviamente degli eroi cadere per mano della mafia, ma soprattutto per la prima volta nella quale si registrò che uomini in divisa furono colpiti, rispetto al quale la mafia non si è mai fermata. Ovviamente oggi non è soltanto la testimonianza di un ricordo, ma deve essere memoria intesa come costruzione continua, che dobbiamo onorare per il sacrificio dei tanti uomini, per Fardelli, e ovviamente credo che questa sia un'iniziativa altrettanto importante, non soltanto di riflessione, ma di condivisione dei tanti giovani che saranno premiati in termini di rivoluzione culturale, perché è quella la vera scommessa per vincere le mafie. Presenti i carabinieri con il comandante provinciale, il colonnello Alfonso Pannone, e le associazioni d'arma, ad accompagnare la cerimonia la prestigiosa fanfara dei carabinieri. Per l'occasione posti ha presentato anche uno speciale annullo filatelico dedicato al carabiniere Marino Fardelli. Noi siamo qui perché la strage di Ciaculli è la prima strage, è considerata la prima strage di mafia, cioè la prima strage in cui purtroppo perdono la vita persone completamente innocenti e non dentro una faida. È molto importante perché attraverso la memoria noi possiamo spiegare alle giovani generazioni quali sono i comportamenti che non devono essere perpetrati. È molto importante perché per Cassino Marino Fardelli è giustamente un eroe e agli eroi va reso il giusto tributo.